Buongiorno a tutti, ben ritrovati! Proviamo ad analizzare il trailer di Aki, ovviamente me lo hanno fatto uscire di notte, io non potevo fare la reaction alle due di notte, anche se ho già visto il trailer, quindi ciancio alle bande, vediamo un po' come funziona questo nuovo personaggio di Street Fighter 6. Ho un po' di cose da dire a riguardo, quindi vediamo un po'. Qui c'è un estratto dello story mode, ce lo vediamo, giusto per conoscenza, anche se non c'è molto da dire insomma a riguardo. Diciamo che il nostro personaggio nel world tour, se deciderà di essere suo allievo, non se la passerà benissimo. Diciamo che è un personaggio che fa sembrare giuri quasi normale, è senza fanservice, questa è la cosa più figa. Ok, allora, penso che queste siano target combo, questa è una combo di pugni piccoli, io penso che sia pugno piccolo abbassato che può chainare in se stesso, in una maniera un po' strana, perché vedo che non funziona come gli altri pugni piccoli, assomiglia un po' a quello di Lily, con le mazze, che a furia di premerlo cambia diciamo direzione, cambia mano di utilizzo. Sembra avere delle mosse molto lente, a livello di frame data non mi sembra un personaggio particolarmente veloce, però è un personaggio molto elusivo, molti hanno parlato di Fang e ovviamente il riferimento c'è, però mi sembra un po' più ispirata a Zafina di Tekken, francamente, perché utilizza il corpo per schivare in maniera non convenzionale gli attacchi degli avversari, e questa è una cosa abbastanza nuova nel mondo di Street Fighter, devo dire. C'è con Fang però in maniera minore rispetto a lei, prese lunghissime tra l'altro, durano una vita queste prese qui. Ok, qui vediamo la prima volta chi ha il veleno, quindi utilizzerà il veleno, se andate a leggere la descrizione vedete che il veleno non va a intaccare il drive, come molti si auguravano, ma va a intaccare la vita, come per Fang. Per Fang il veleno in realtà è stato abbastanza inutile, vedremo se con lei funzionerà in maniera diversa, perché comunque i danni in Street Fighter 6 sono veramente alti, e creare un personaggio che con il veleno ti fa tipo 2 di danno al secondo, secondo me lo rende abbastanza debole, dovrebbe fare più danno con il veleno, cioè dovrebbe essere una situazione di pericolo, essere avvelenato, senza ovviamente esagerare. Però vedremo, perché qui non abbiamo le barre di energia, quindi non sappiamo come funzionerà. Ha degli attacchi a distanza, questo è il Command Dash di Fang, quindi iniziamo un po' a vedere le similitudini, questo qui è il Command Dash di Fang, che sembra essere completamente invincibile, a meno che non abbiano fatto tipo un gioco ottico per farlo sembrare invincibile, ma in realtà solo la versione X sarà invincibile, come per Fang. Se dovesse funzionare come Fang sarebbe vulnerabile solo a represe e perderebbe, no, non perderebbe, perderebbe dalle prese e non perderebbe dai colpi, perché è invincibile. Vedremo, quindi ha degli attacchi a distanza, mette delle pozze di veleno in maniera abbastanza diversa da Fang. Questa mossa qui non l'ho capita, ma pare che ti possa saltare addosso immediatamente, quindi, boh, è strana, bisogna ovviamente vedere la frame data, se è scoperta o non è scoperta e tutto il resto. Questa è la crocchetta, quindi torna la nostra adorata crocchetta, con parecchio potenziale di combo in più, perché qui, più avanti nel trailer, vediamo che fa una combo abbastanza lunga. Super di livello 1, niente di che. Da notare che tutte le super avvelenano di questo personaggio. Questa è la... allora, questa è simile al Take the Poison, non al Take the Poison, al Take the Poison di Fang, che è la sua V-Skill, soltanto che qui il proiettile ha una sua consistenza, e quindi è di fatto una specie di ad hoc, cioè ha una presenza sullo schermo, mentre quella di Fang passava attraverso qualsiasi proiettile, ma non era un colpo. Qui invece addirittura lancia per aria, quindi magari ci si può anche combare. Questo sembra un follow-up dalla mossa X, dalla slide X, quindi si può combare dentro la crocchetta, quindi si può fare normal crocchetta, e dopo la crocchetta si può mettere un'altra combo. Quindi sicuramente ha proprietà diverse. Qui vediamo ancora la pozza, utilizza questa specie di yo-yo, catena o ragnatela per mettere le pozze di veleno per terra. Qui sembra che crei una mega pozza di veleno per terra, con la super di livello 2, quindi probabilmente sarà la più forte. delle 3. Voglio fare questo azzardo, perché fa danno, vedete c'è l'esplosione, e poi c'è una grossa pozza di veleno per terra. Vedremo quanto è determinante il veleno. Qui fa una mega combo che non so quanto sia efficace, perché vedo 3 pugnetti dentro, quindi finisce che fa poco danno. La livello 3, molto carina, molto bella devo dire. Magari Haki non è animata bene come Rashid, io ho preferito Rashid sinceramente come animazioni, però è un personaggio interessante, probabilmente non fa per me, sicuramente la proveremo, sicuramente la porteremo a Master, tanto il Master è abbastanza semplice, ma non credo sia il personaggio che sto cercando in questo momento. Io aspetterò Ed e probabilmente mi fermerò lì, almeno fino a un eventuale annuncio di Dudley, perché ho bisogno dei miei pugili, ormai lo sapete. Però è un personaggio interessante, un personaggio sinceramente abbastanza innovativo. Io pensavo fosse molto derivativa da Fang, ma non è così, perché ha un sacco di mosse diverse, sembra molto più veloce di Fang, è molto più offensiva, ma dobbiamo ovviamente valutare pad alla mano, sticca alla mano, come si comporterà. Quindi, bel personaggio, non derivativo quanto pensavo, sono positivamente colpito. Fatemi sapere cosa ne pensate, vi ricordo che streamo su Twitch due volte al giorno ormai, quindi fate un salto se volete, facciamo challenge pazze, tornei e rank da manetta, ma anche community event e tutorial per i principianti. Quindi, mi raccomando, passate per fare un saluto, ci vediamo al prossimo video.